bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi tante novità delle ultime 24 ore di fortnite le trovate racchiuse in una manciata di minuti parleremo della nuova competitive nella nuovo torneo di questo weekend il 12 e il 13 dicembre con 5 milioni di montepremi per dividerlo ovviamente nei primi che ce la faranno in trio ma parleremo anche di un arrivo molto interessante che si tratta di una nuova collaborazione con un cartone animato che tutti conosciamo vedremo ovviamente anche tanti leaks tra cui un nuova una nuova emote la prima che verrà completata con l'utilizzo di quattro giocatori prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che stanno mettendo un like a questo video grazie ragazzi per il vostro like e a tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e si tratta dei game awards ragazzi oggi ci sarà su twitch nel canale ufficiale di fortnite la celebrazione dei game awards vi ricordo che fortnite è stato nominato per tre di questi premi e vi ricordo che seguendo la live avrete la possibilità di ottenere un premio direttamente da epic games dovete però linkare il vostro account di fortnite con il vostro account di twitch semplice andate nella pagina di fortnite nel loro sito internet a sinistra c'è il menu in basso c'è scritto collegamenti e da lì potete collegarvi con il vostro account di twitch è davvero semplicissimo quindi fatelo e non vi dimenticate andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sarà nella nuova ltm una mappa molto molto conosciuta dalla maggior parte dei giocatori quelli un po più grandicelli questa ragazzi è la mappa una delle mappe di halo e vi ricordo che sarà presente in game la skin di halo insieme anche al deltaplano al piccone e ad un emote in questa modalità si giocherà molto probabilmente ad una specie di ruba bandiera il capture the flag dovrebbe essere indicativamente la squadra che tiene per più tempo la bandiera vince più o meno dovrebbe funzionare in questo modo il fatto di poter giocare a fortnite in una delle mappe storiche dei videogame diciamo che è una bella occasione anche per farvela conoscere e vi ricordo ovviamente che questa è la skin dedicata che arriverà nello shop insieme molto probabilmente alla ltm e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché novità per quello che riguarda il mystery box che molti streamer creator stanno ricevendo il primo fu dato a forda fortnite una settimana fa dieci giorni fa adesso alcuni lo hanno ricevuto quindi cominciano ad arrivare la cosa veramente curiosa questa è un'altra immagine presa con tutto quello che contiene è questo sacchettino di caramelle porca miseria raga sono rosse e blu dai sarà un caso che sono rosse blu non vi ricorda qualcosa nella storia del cinema è sì sto proprio parlando di matrix ragazzi pilola rossa pilola blu magari è un piccolo easter egg sapete che fortnite ama fare queste piccole cose e potrebbe magari svelare una possibile futuro o comunque quello che potrebbe accadere quindi che in realtà la realtà nella quale stiamo giocando non è la realtà insomma sappiamo che è molto contorto tutto il discorso dello zero point anche qua staremo a vedere se ci abbiamo preso e che cosa succederà e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché novità nuovamente per quanto riguarda la page la ciao la patch 15.10 finalmente è stata portata negli staging server questo vuol dire che hanno completamente finito le build quindi non è più non ha più bisogno di essere aggiornata e quando una patch è negli staging server è di solito rilasciata dopo pochi giorni secondo me martedì o mercoledì vedremo la prima patch della stagione 5 di questo capitolo 2 e con 522 build secondo me ci sarà da ridere perché sarà qualcosa di molto molto curioso e sicuramente ci aiuterà un po' a capire cosa sta succedendo in questa season andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono delle novità per quanto riguarda la ricarica dei V-Bucks a me personalmente non ha mai funzionato come cosa ho cercato di capire dove fosse non l'ho capito mi sono acquistato il pacchettino da 1000 V-Bucks 7,99 euro ma come sapete noi in Italia eravamo gli unici al mondo ad avere la possibilità di ricaricare i nostri V-Bucks in base a quello che ci servivano mi spiego avevamo 300 V-Bucks volevamo comprare una cosa da 800 c'era la possibilità di comprarne solo 500 non chiedetemi come perché a me personalmente non ha funzionato ma queste sono delle immagini ufficiali presenti appunto in game quando bisogna andare alla selezione della ricarica dei V-Bucks e da ieri è disponibile questa funzione anche in Germania quindi io non so se per caso sia stata riabilitata anche in Italia dateci un'occhiata perché è una cosa davvero molto interessante e molto carina e soprattutto non vi fa spendere più soldi di quanti non ve ne servono per prendere qualcosa nello shop e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché eccolo qua ragazzi il post su Twitter di Fortnite Competitive che annuncia la Frosty Frenzy Tournament 5 milioni di monte premi combatti nel torneo della battaglia nella bufera preparati a mettere alla prova le tue abilità su Fortnite per avere la possibilità di vincere una parte del monte premi da 5 milioni di dollari nel torneo battaglia nella bufera forma il tuo terzetto affronta gli altri cacciatori dal 12 dicembre la partecipazione è aperta ai giocatori idoni con qualsiasi livello di abilità che entrando in gara otterranno la copertura teschio natale quindi una nuova copertura in regalo solo per partecipare al torneo la battaglia nella bufera prevede 4 sessioni suddivise in 2 giornate per ogni regione server ogni sessione comprende 2 round per ogni sessione solo le prime 500 squadre delle regioni America Nord bla 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 e le prime 250 delle regioni OCE quindi a noi ci interessa le prime 500 squadre supereranno il primo round e passeranno al secondo i partecipanti possono unirsi a tutte le sessioni purché soddisfino in anticipo i requisiti descritti in seguito nelle due giornate ogni sessione è indipendente alle altre le sessioni del primo giorno hanno un formato di punteggio diverso da quello delle sessioni del secondo giorno per ulteriori dettagli sul punteggio bla 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 andate nella pagina di Fort Light News e potete cliccare su quel link dove verrà indirizzato il regolamento quindi ragazzi tanta roba questo torneo in terzetto che ha già aria di Natale nella bufera 500 le squadre che passano 5 milioni il monte premi di dollari da suddividere e tanto tanto in bocca al lupo per voi e per il vostro terzetto nella speranza di qualificarvi io per oggi ragazzi tutte le news ve le ho dette mi raccomando di cliccare un bel like dai ragazzi non dimenticatevi di farlo e lasciate un commento qualsiasi cosa aiuta questo video ad andare nei consigliati noi ci vediamo alle 8 in live su Twitch ciao 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 ciao